Musica Tre spettatori ben ritrovati con l'informazione di Terediogene. Il comune di Crotone si appressa a mettere in mano alle partecipate. L'amministrazione comunale di Crotone si prepara a mettere mano alle partecipate. Quali sono le partecipate? Sono quelle società di cui il comune di Crotone detiene o una parte della proprietà oppure l'intera proprietà. Parliamo, giusto per farvi capire, Acrea, Acros, Soacro, sono tutte partecipate. La Crea per intero, l'Acros in parte, la Soacro in parte. Che cosa sta per succedere? Il consiglio comunale di Crotone sarà chiamato a valutare la possibilità o di rescindere il rapporto con alcune di queste società, potrebbe essere con la Soacro, oppure di accorpare le due società come potrebbe essere il caso. E' l'idea progettuale intorno al quale già il sindaco Vallone della città di Crotone, Peppino Vallone, sta studiando a corpare Acrea con Acros per ridurre i costi, per ridurre i costi per i cittadini che sono già elevati. E a proposto di costi, sulla stampa regionale, in particolare sul quotidiano online di oggi, è stata pubblicata la notizia dell'aumento in tutta la città calabrese della Tares, la tassa dei rifiuti solidi umani. Leggio Calabria detiene, secondo questa, quando si legge appunto in questo articolo, detiene la più alta percentuale di aumento, è la prima, una cifra, secondo questo giornale, che è la prima in Calabria, 541 euro a famiglia paga una Reggio Calabria. A Crotone invece si paga la percentuale più bassa, quella del 9,8%, questo è l'aumento fatto per Crotone, mentre a Cosenza il 106%, il 49%, il 67% a Vibbo. Perché, dice il giornale, perché a Crotone si paga la percentuale più bassa? Perché Crotone nel 2012, prima di questo aumento, pagava una delle quote più alte, questo è il motivo, quindi si è un po' equilibrato il costo, per cui la spazzatura costa molto, il servizio è scadente, e almeno per quello che può fare il Comune si sta valutando la possibilità di accorpare Acrea ed Acros, sciogliendo Acros e assorbendo una parte dei lavoratori della società ad Acrea. Questo potrebbe essere il progetto che dovrebbe mettere ordine, perché con due società che fanno più o meno lo stesso servizio, il costo per i cittadini è sempre più elevato. Stamane presso la sala giunta del Comune di Crotone è stata illustrata una iniziativa che si intende attivare, in conseguenza l'ennesima dimostrazione di indifferenza da parte del gruppo Trenitalia nei confronti dell'intera fascia ionica. Ci sono due Italie, una del nord e una del sud, che vanno a due velocità, una economica e l'altra velocità, sono le strade, le infrastrutture, la ferrovia, gli aeroporti. Poi ci sono due Calabria, la Calabria occidentale e quella orientale, la Calabria ionica. La Calabria occidentale va a velocità più elevata, ha un'economia più sviluppata, la Calabria ionica invece non viaggia più nemmeno, non ha più economia, non ha più treni, non ha più niente. Allora stamattina lei sta facendo una proposta per quanto riguarda i treni. No, intanto il merito alle due Calabria. C'è una Calabria, diciamo, tirrenica per quanto riguarda la questione ferroviaria e la Calabria ionica. Cioè significa che per quanto riguarda il trasporto ferroviario, l'attività in programmazione del gruppo Trenitalia. Praticamente vediamo, notiamo ancora una volta come oltre alla soppressione di treni a lunga percorrenza, quale quello Crotone-Roma, Crotone-Milano e Milano-Crotone, Crotone-Milano-Milano-Torino e altri collegamenti interni regionali. Ho scoperto attraverso la partecipazione mia ad un convegno a Torino dove ha relazionato un rappresentante del gruppo Ferrovie e ha illustrato una serie di attività di Trenitalia rispetto all'ipotesi, alla progettazione del sistema alta velocità e alta capacità nell'intera penisola. Ho scoperto, ho preso atto, e qua ci sono la documentazione, sono venuti in possesso da pochi giorni, il convegno è avvenuto a novembre a Torino, ho preso atto che in merito alla progettazione dell'alta velocità nella penisola ha ragione l'intervistatore quando dice che c'è un'Italia del nord dove in qualche modo è previsto una serie di collegamenti di alta velocità e dove sono previste una serie di interventi nelle aree metropolitane. Dove già ci sono, dove ci sono già, l'alta velocità c'è già. Esatto, mentre al sud, ecco, da Napoli in giù abbiamo il collegamento, si vede benissimo da questo diagramma, da queste ipotesi progettuali, dove Roma-Napoli, poi da Napoli c'è il collegamento di alta velocità a Salerno, Salerno collega Gioia Tauro e Gioia Tauro-Reggio Calabria, quindi la fascia tirrenica. Poi da Salerno c'è un altro collegamento, Foggia-Bari, in previsione e in progettazione, però ecco, da Bari e a scendere nella fascia ionica non è previsto null'altro. Cioè, praticamente, la tratta, la linea ferroviaria che da Taranto, io dico Taranto perché come punto di riferimento, è la fine, diciamo, dell'autostrada. Allora, nel mentre, anche l'Adriatica, sotto questo, diciamo, se vediamo questo disegno, può essere inserito nel ragionamento di contestazione, perché qua non è previsto nessun tipo di collegamento all'area metropolitana, diciamo, di alta velocità. Però qual è la differenza? Che fino a Taranto e a salire c'è la rete autostradale che in qualche modo collega questa parte. Mentre invece, da Taranto in giù, cioè, noi sappiamo la nostra infrastruttura stradale e autostradale come combinate. È uno sfacelo. La proposta qual è? Allora, intanto, stamattina, rendere nota alla stampa locale di questa ulteriore attività del gruppo Ferrovie dello Stato italiano che ancora una volta, e per l'ennesima volta, come dire, trascura la linea ferroviaria ionica a partire da Taranto e giù fino alla parte più estrema della Calabria, fino a Reggio Calabria, tipo Caolonia, Gioiosa, Rocello, insomma, tutte queste comunità che sono a ridosso della fascia. della fascia ionica e coprono la linea, sono interessati alla linea ferroviaria ionica. E poi, per illustrare l'attività istituzionale, che è quella di aver proposto, ieri l'ho protocollato, una delibera di Consiglio Comunale, e ieri se ne è cominciata a parlare già nelle commissioni consigliere competente, la prima come affare istituzionale, la seconda come trasporti, dove i colleghi si sono assolutamente dimostrati disponibili e sensibili alla tematica, e per cui se ne riparlerà nei prossimi giorni. Questa delibera prevede intanto ritenere assolutamente la contrarietà all'attività del gruppo Ferrovie, per questo tipo di ulteriore progettazione che va a discapito e trascura la linea ferroviaria ionica, da Taranto in giù, ovviamente. E poi propone di interfacciarsi con tutti i comuni della fascia ionica. Se noi, nell'immaginario di questa delibera, di questa proposta, nell'immaginario mio, che l'ho proposta all'interno Consiglio Comunale, se tutti i comuni interessati alla fascia ionica, da Taranto in giù, riuscissero a deliberare, e si riuscissero a raccogliere tutte le delibere e mandarle all'imministratore dell'infrastruttura, al Governo Letta, a tutti i rappresentanti parlamentari, e sottoponessimo a questo grave problema di collegamento e di mobilità nella Calabria, nell'intera Calabria, nella fascia ionica, fino ad arrivare a Taranto, beh, insomma, si comincerebbe a parlare dal basso, cioè dalla base, dal punto di vista locale, quelle che sono le nostre, come dire, rivendicazioni dal punto di vista del diritto, attraverso collegamenti adeguati, attraverso trasporti adeguati, ad avere un, a perseguire il nostro progetto di sviluppo economico e sociale della terra. Prima di tutto mi sarei immaginato, ma non di trovarlo insieme a Ettore Perziano, a fare insieme la conferenza stampa. E no, ma non ti prego, non è questo il concetto, non è questo il concetto. No, 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 ma è una cosa simpatica, quello che sto dicendo. Ma noi non dobbiamo fare cose simpatiche, dobbiamo fare cose utili. Il concetto di Perziano ha posto un problema molto serio, ma è un problema che bisogna chiedere con forza, anzi è stato abbastanza chiaro nel suo modo di esprimere la problematica di cui è all'oggetto. Quindi non è che il concetto di Perziano, mi trovo qua perché c'è il concetto di Perziano, perché quello che sta ponendo è una questione meritevole, è una questione che meriterebbe molto e più attenzione da parte di tutti. Perché effettivamente, proprio per dirla, magari in meno politichese, parliamoci chiaro, siamo all'interno abbandonati. Cioè, è l'unico tratto di strada che non ha servizi, non ha servizi, non ha strada. Le autostrade, le ferrovi, sono dappertutto, dappertutto, tranne che sulla fascia ionica, è vergognosa. Lo sa che è successo l'altro giorno, le racconto un fatto. L'altro mercoledì è successo, non questo, l'altro ancora, c'erano degli studenti che dovevano andare all'università di Catanzaro e dovevano prendere la lettorina, chiamiamola così, così la gente capiva, perché nella lettorina non è più un treno. Dovano prendere la lettorina per andare a Catanzaro. Bantre stavano per salire, sono stati avvisati che non potevano prendere, non potevano partire. Perché? Si era rotto. Cioè, è mai possibile che ancora in Italia, parliamo dell'Italia, parliamo dell'Italia, ma è mai possibile, pesterà lei che è un imprenditore che viaggia sempre, ma è possibile che in una realtà dell'Italia ci siano queste cose? Ma guarda, lei sapeva un'altra cosa, io avevo un supermercato a Trebisacce da 14 anni, in 14 anni al mio supermercato ci sono potuto arrivare tre volte in 14 anni. Sa cosa significa? Che significava per correre, per arrivare a Trebisacce con la fascia oraria della S106 significava metterci sei ore. Cioè, io impiego per fare 120 km sei ore e un pugliese piuttosto che un cosentino che c'è l'autostrada arriva a Napoli in un'ora e mezza e la differenza della logistica, questo significa logistica, la logistica è lo sviluppo dei territori. Noi, oltre che avere l'indice di disoccupazione più elevato d'Italia, ma questo è dato anche dalla carenza della logistica, se a noi ci hanno tolto l'unico treno che passava dalla città, non abbiamo statale, non abbiamo nulla, non abbiamo nulla e adesso col nuovo piano industriale di ferrovie dello Stato ancora una volta si dimenticano che comunque c'è una comunità che fa parte comunque parte integrante di una nazione di una nazione e posso dire una cosa? Certo. Posso dire un dialetto? Sì, certo. E ci vogliono i forconi che... Sì. Qua c'è da fare delle azioni forti perché questi qua con il modo loro di tenerci in isolamento ci stanno massacrando, ci stanno massacrando e allora è normale che su queste problematiche presentate dal consigliere Perziano ma che li presentasse qualsiasi consigliere a me poco importa e poco importi il colore sono problemi dei territori guardate che quello che sta avvenendo sta avvenendo nella nostra provincia cosiddetta provincia di Crotone che sarà con il patrimonio soppressa è una cosa veramente vergognosa ma vergognosa veramente siamo rimasti praticamente senza nulla senza nulla non abbiamo un assetto stradale ma abbiamo cioè non c'è un treno che passa ma lei si può immaginare se un pensionato deve partire come fa a partire se deve fare 9 ore di pulmon ma stiamo scherzando veramente su queste problematiche bisogna fare delle azioni forti io dico mettiamoci le forche andiamo noi a Roma con i forconi a Roma questo è il concetto anche di peggio dobbiamo fare perché ci hanno rotto le scatole ci stanno massacrando siamo stanchi di vedere sta gente che decide e per noi non fa mai nulla questo è il problema anche perché le imposte le paghiamo come le paga il Lombardo come le paga un Pugliese come lo paga un Naziale come tutti quanti il resto d'Italia quindi non è che lì c'è Crotone e di meno rispetto ad altri comuni altri territori non è che il nostro cittadino non paga come le tasse le imposte come si pagano in Val d'Aosta piuttosto che in Lombardia quindi i servizi devono arrivare anche da noi altrimenti bisogna fare relazioni forti mi dispiace ma purtroppo è così non sono arrabbiato sono normale questa è la mia normalità stamattina al Teatro Apollo di Crotone nell'ambito di un'iniziativa di beneficenza in scena tra gli attori anche il questore spettacolo di beneficenza organizzato dalla questura di Crotone è davvero uno spettacolo vedere tutti gli uomini della questura quelli che che mettono la città in sicurezza che controllano la città qui stamattina insieme alle scuole agli abitanti di Crotone a questo spettacolo c'è la cosa importante è che il questore il questore il signor questore insomma è un attore fa la rappresentazione perché perché la compagnia è una compagnia di dilettanti ovviamente è una compagnia di dilettanti è una compagnia di dilettanti ed è del suo perese originario che è un paese nella provincia di Benevento siamo in attesa di volevamo entrare dentro e fargli una sorpresa da pungiglione ma ci hanno detto per il momento no doveva doveva venire il prefetto Panico Vincenzo Panico che è rimasto molto legato a questa città in rappresentanza proprio del Ministero dell'Interno perché questa manifestazione è voluta proprio dal Ministero dell'Interno direttamente ed era stato indicato a rappresentare il Ministero del Dottor Panico non può venire per la situazione dei Forconi per la situazione che c'è che c'è in questo momento in Italia è patrocitata dalla provincia la Comune iniziativa dominata insieme a teatro per la gente il questore è impegnato nella sua attività di attore quindi a fare gli onori di casa questa mattina tocca al suo vice sì infatti io stamattina avrò l'ingrato compito di presentare l'iniziativa cercherò di fare il mio meglio è un'iniziativa molto molto bella voluta fortemente dal questore Luigi Botte è un'iniziativa che noi abbiamo chiamato insieme a teatro tra la gente è un modo per avvicinare sempre di più la Polizia di Stato ai cittadini in questo caso agli studenti che come vedete sono giunti numerosissimi qua al teatro il provento di questa giornata verrà interamente devoluto alla situazione italiana ricerca sul cancro quindi un modo anche per fare solidarietà è un modo per fare solidarietà importante alla Polizia di Stato come dire è vicino alla gente vicino ai cittadini e soprattutto lancia un messaggio a questi giovani che è con loro e con il futuro della nostra società ha detto benissimo la Polizia è con i cittadini e con i giovani è un modo per far riflettere e per incontrare i giovani per fare solidarietà che ne pensa di questo oratore? ma devo dire la verità l'ho visto ieri sera in prova devo dire molto molto brava è una compagnia anche se composta da direttanti perché sono tutte persone che fanno questo per hobby sono molto molto bravi penso che sarà un successo queste iniziative lui i pomodori ha detto non dovete mettetele da parte poi ce li mangiamo con l'insalato esatto spero pensa che non saranno necessari non saranno necessari grazie a Stavamo bene, ma io non so più che ero sconfettato, e ora non è mai così, non cambiamo. Donna Cristina, Donna Cristina, qui, non più quello che aveva un primo. Donna Cristina... e marito con c'è sienta madura magari stanno nascendo lì per te signora dice chi vena quando vince stocca ma lui ha pazziato dormisce che non vena nessuno una bestia lì ha portato a voi che fisse fisse dentro l'occhio e marito con c'è io ti torno a dicere non ci stanno città lì per te tu mi dici che non vengono e va bene però io si mandata da faccia passare un brutto quanto tu e il punto è la carugna che non si deve fare eh già donna Cristina questa è la verità ognuno si deve fare i fatti suoi ognuno oggi in Piazza Duomo a Crotone manifestazione promossa dalla commissione pari opportunità della provincia di Crotone Piazza Duomo questa mattina ci sono degli stand sono le artigiane della provincia di Crotone che espongono le proprie opere le proprie opere d'arte perché sono le proprie opere d'arti ad organizzare questa manifestazione e la commissione pari opportunità della provincia ne parliamo con la presidente Alba Mato Sì buongiorno siamo contentissime oggi di questa giornata perché abbiamo coinvolto tutte le donne artigiane della provincia sono state coinvolte e hanno la possibilità di esporre i propri lavori e venderli ma una cosa molto importante oggi è che come insomma la commissione vuole tende a valorizzare anche quelle che sono le culture e le nazionalità di differenti diversi perché ci sono persone di diverse nazionalità che vivono e operano all'interno della nostra provincia C'è il gruppo del laboratorio del CDA Cara del Sant'Anna e il gruppo donne di Rocca di Neto della Prociv di Isola guidate dalla Prociv di Isola quindi per noi oggi sono loro il nostro orgoglio è una... cioè si vede insomma come la commissione pari opportunità tende appunto a valorizzare quelle che sono le differenze di nazionalità, di cultura differenze però valorizzate e questa è una cosa importante la signora è la vicepresidente si chiama? Rita Lorenzano Rita Lorenzano sta sostenendo ovviamente questa cosa questa iniziativa insieme alla Presidente Sì questa giornata per noi è molto importante volevamo farla qualche tempo fa l'abbiamo dovuta rinviare per dei motivi tecnici abbiamo deciso di farlo oggi in questa giornata soprattutto in questo periodo particolare in quanto per noi esprime festa, gioia poter essere qui insieme a tante altre donne e di altre nazionalità e vogliamo che tutta la cittadinanza sia coinvolta in questa giornata festosa proprio gioiosa che venga qui ad acquistare anche questo assolutamente sì assolutamente sì se non vogliono acquistare almeno a essere partecipi di questa giornata particolare ce li spiega un po' gli stand c'è anche una brochure vediamo un pochino qui questo primo stand che cosa ci sono allora questo è il laboratorio donne cda cara Sant'Anna gestito dalla Misericordia di Isola Caporizzuto ci sono persone extracomunitarie le donne extracomunitarie come puoi vedere insieme alle operatrici espongono i loro lavori ci sono dei quadri in pasta di mais invece il terzo stand è quello che gli dicevo della Prociv di Isola Caporizzuto è un gruppo di donne che stanno a Rocca di Neto è la responsabile Ines De Fino e come puoi vedere praticamente sono dei lavori fatti con la carta giusto? carta intrecciata di supermercati sì, carta intrecciata i volantini che si buttano nei supermercati come puoi vedere sono loro le protagoniste sono le artiste le stavo dicendo abbiamo anche fatto realizzato una brochure dove spieghiamo che cos'è la commissione che cosa fa e il nostro programma e il programma passiamo all'altro stand l'altro stand sono altre due donne che espongono la signora Monili insomma Monili invece la ragazza fa col filo diciamo lavora molto col filo Giussi con prodotti naturali cosa usa? utilizzo filati naturali come il lino e anche l'ortica se vuole vedere un'occhiata addirittura l'ortica questo è un prodotto fatto con l'ortica questo qua come è fatto in lino? i cuoricini sono fatti in ortica questi cuoricini i cuoricini sono fibre di ortico fibra sì un filato di ortica allora c'è da imparare sempre qualcosa andiamo avanti questo ovviamente faccio tutti da lei a mano sono bellissime questi sono bellissime poi la signora invece espone i suoi gioielli fatti tutti a mano con pietre fredde pietre dure sono pietre dure e fimo è una pasta che poi si cuoce nel forno d'accordo fatto tutto a mano allora stiamo imparando parecchie cose sono cose che non avevamo nessuna conoscenza passiamo dall'altro lato passiamo dall'altra parte questo qui tipico natalizio sempre tutto fatto a mano e la signora realizza molto col feltro vero signora col gesso con la lana patchwork sì tutto comunque fatto a mano rigorosamente a mano rigorosamente fatto a mano dove c'è l'attività la signora la signora a crotone a crotone siamo al ancora monili ancora monili qui c'è la ragazza che fa fa maglia ah e queste qua sono particolari sono pietre particolari che significa pietre particolari lo chiediamo a loro che sono gli erbegiani pietre particolari signora pietre particolari che pietre sono non sono particolari sono le pietre che ci dà il mare quindi sono pietre particolari è l'arte è la mano è la creatività che viene quando si guarda qualcosa che ci intriga a me i vetri mi sono sempre piaciuti allora li ho messi insieme il vetro utilizza pure il vetro l'altro cosa invece qui cosa abbiamo il materiale di